Quando parlo di disegnare nasi vanno tutti in crisi, eppure ci sono delle ottime procedure e metodi. State a vedere! Allora, credo che la questione fondamentale di questa storia del naso sia che si parte appunto, come abbiamo visto, da una rappresentazione simbolica molto semplificata, e adesso la semplifico in questa maniera, per cui si ha il naso che è visto di fronte, è visto in questo modo, poi chiaramente qua c'è una parte più grande, ma questa qui è una rappresentazione appunto simbolica. Su questa costruzione, che ci collega il naso agli occhi, eccetera, si va poi ad aggiungere il lavoro di rifinitura, si aggiungono i chiaroscuri, si aggiunge la forma, per cui il naso si rimpicciolisce qua, si allarga, si aggiungono i chiaroscuri, e si aggiungono gli altri elementi particolari. Questi altri elementi particolari rendono tutta la forma, creano la forma complessa. Allora, chi fa questi esercizi? Fa questo primo esercizio, ok, e poi pensa di non doverlo fare più, ho questa impressione, perché continuo a trovare persone che si incastrano in questo punto, non so veramente perché, fondamentalmente, tu ce l'hai, il naso ce l'hai proposto così, se lo vedi da sotto, il naso sarà proposto in questa maniera qui, fondamentalmente, no? Detto, detto così, finito, clabella, ok? Ecco, ci sono sempre gli occhi, e qui c'è l'arca da sopraccigliare. Questa è la struttura, poi su questa struttura vai a costruire, vai a costruire la forma del naso, che sarà così, e poi vai a lavorare col chiaroscuro di nuovo, poi questo in genere è un po' così, qui ci sono altre parti che normalmente, fatto lo schema, non vengono fatte, ma ci sono, esistono. Ho un problema che vedo, è che ci si fissa, si cerca di ottenere una ricetta assoluta, che non esiste. Questo tipo di schematizzazione serve solo per creare una struttura di riferimento alla quale, sulla quale puoi appoggiarsi per andare a costruire il gioco del chiaroscuro, ma non è che è una ricetta assoluta. Una volta che l'ho visto di fronte, e da sotto, lo posso vedere da sopra, allora a quel punto cambierà, è sempre questa specie di cassa da morto, sulla quale dobbiamo lavorare, e così, e così, a questo punto. Sempre la schematizzazione degli occhi, ciò chiaramente, se è vista dall'alto, questa parte qui sarà più vicina, è vista dall'alto, quindi sarà così, il naso sarà così, e qui c'è l'altra. Franchamente io non riesco a capire qual è il problema per cui uno si deve bloccare, qui ci sarà la bocca, qui ci saranno gli occhi, gli occhi li abbiamo già fatti, quindi non mi metto neanche a rifarli, questo è così, questo è così, l'occhio sta qui, allora, tutto il discorso poi è, questo non deve essere fatto bene, deve essere fatto fondamentalmente, fatto e rifatto, eventualmente tutte le volte che ti trovi di fronte a un modello di naso, niente di più, niente di meno, ci fermiamo qui, domani una nuova lezione da 5 minuti, a un attimo, mi trovi su Twitch TV, dal giovedì alla domenica sera, alle 21.30, dipingo, disegno, e chiacchiero con chi mi viene a trovare, viene anche tu, Grazie a tutti.